La scuola, presidentessa della vecchia albenga, quanta soddisfazione oggi per aver dato la città il rito del confuoco? La soddisfazione è molta, è il primo anno, l'anno zero, avevamo tanto timore che potesse non riuscire, invece il ceppo è bruciato, è bruciato benissimo e quindi la soddisfazione è molta, anche perché da come è bruciato, il 2020 sarà un buon anno.